Era stata inaugurata come una delle fontane più belle della città, in una zona tra le più suggestive, in Viale Regina Margherita, a Caltanissetta. Zampilli d'acqua e giochi di luce in una rotatoria. A distanza di qualche tempo, ci segnala un telespettatore, quella fontana è in stato di completo abbandono. Niente più zampilli, niente più giochi di luce, niente più acqua. Anzi, evidenzia, l'acqua c'è stagnante, con conseguenze facilmente intuibili. Il nostro telespettatore chiede alle istituzioni competenti che si faccia qualcosa per ripristinare tutto come prima, trattandosi di una struttura in bella vista, a due passi da Villa Medeo, dalla piazzetta dedicata a Giovanni Paolo II e da provincia e prefettura. La segnalazione si conclude così. Se proprio non fosse possibile riportare l'acqua, non sarebbe male trasformarla in aiuola. Forse sarebbe più gestibile.